Antonio Ingroia si è conclusa oggi a requisitoria del procuratore generale Giuseppe Rombardo, c'è stata anche la sua arringa al processo dell'angheta Stragista contro Graviano e Filippone. Ha parlato di un paese, quello italiano, che è ancora oggetto di ricatto e di una verità che ancora deve essere cercata. Come dire, fino a quando non si fa piena luce, fino a quando non si fa piena verità e giustizia su quella stagione, noi anche trent'anni dopo siamo in qualche modo prigionieri delle menzogne, dei tipistaggi di quella stagione. Quindi oggi continuano i ricatti, continuano le menzogne, i messaggi obliqui, sappiamo bene che sono tutti destinati a un personaggio che è stato al centro anche di questo processo requisitorio del Pubblico Ministero, cioè Silvio Berlusconi. Le dichiarazioni di Graviano nel processo di primo grado erano tutti messaggi indirizzati a lui. Le dichiarazioni recenti di Salvatore Baiardo, l'uomo che aveva coperto la ditanza di Graviano all'epoca, sono stati pure messaggi verso di lui. Poi ci sono tutte le anomalie, le stranezze attorno alla cattura di Matteo Messina Denaro e c'era sempre Baiardo che era stato profeta di questa cattura. Quindi faccio queste tre semplificazioni, ma il motivo per cui il Paese è dentro questo ricatto incrociato, vittime, prigioniero di questi ricatti incrociati va bene al di là. E allora io ho detto, anche nel mio intervento appunto nella mia ringa di parte civile, qual è la medicina per liberarci da questo ricatto? Verità e giustizia, ma deve essere non mezza verità e mezza giustizia, tutta la verità e tutta la giustizia. Per quanto riguarda chiaramente l'oggetto del processo, si dimostra che l'andrangheta è inserita insieme a cosa nostra all'interno di un unico sistema criminale. I sistemi criminali gli eravate occupati per primi e poi a Palermo. Oggi lei ha detto, mancano gli imputati di fatto, i comitati di pietra, gli imputati diciamo, i cosiddetti mandanti altri e altri. Esatto. Beh, diciamo che è un percorso lungo, difficile. La prima indaggia sul sistema criminale è l'aprio del 1996, quindi sono passati 28 anni. Oggi siamo uno stato di conoscenza superiore. Certo, sono voluti 28 anni per arrivare a una prova processuale dell'esistenza del sistema criminale, ma non abbiamo ancora la prova processuale di tutte le persone fisiche, artefiche e responsabili del sistema criminale. Ed è quello che speriamo di dover aspettare altri 20 anni. L'ultima domanda è aperta a Firenze, un'inchiesta, quella sui mandanti esterni delle stragi. Tra, diciamo, gli oggetti investigativi, da quello che abbiamo preso a processo trattativa appello, quando Berlusconi si abbalsa il facoltanino a rispondere, e quant'altro. C'è anche che l'attentato a Maurizio Costanzo è inserito nel quadro, diciamo, di ricostruzione. Lei oggi ha fatto un esplicito riferimento all'attentato a Costanzo, indicando tre punti. Ecco, come dobbiamo inquadrare quella vicenda? Su cui comunque c'è già stato un processo. Allora, io penso che sempre la mafia, dobbiamo chiamare il sistema criminale, ha scelto degli obiettivi simbolici con più finalità. Quindi io credo che sia assinato oggi venuto bene in evidenza almeno due delle finalità che si sono volute realizzare con quell'attentato. La prima, colpire comunque un giornalista che era stato coraggioso, aveva fatto una trasmissione, se parliamo di quella, di quell'Italia, di quel tempo in cui nella televisione popolare, come quella che faceva Costanzo di mafia non si parlava, lui invece invitava Falcone, poi fece una famosa serata, eccetera. Ed è il primo dato. Quella con Santoro. Quella con Michele Santoro, eccetera. Secondo dato è che si inserisce quell'attentato in una strategia eversiva o destabilizzante dove bisognava seminare il terrore del Paese. Per seminare il terrore del Paese tu scegli un giornalista molto popolare per dire attenzione la mafia colpisce anche la mia trasmissione che vedo ogni sera, diciamo, per ogni telespettatore. E anche questo diciamo che è venuto abbastanza bene fuori. Poi c'è il terzo aspetto, secondo me molto importante, che è possibile che la Procura di Firenze stia indagando su questo aspetto e cioè che l'attentato a Costanzo fosse un attentato alla persona fisica di Maurizio Costanzo, ma che era un messaggio invece a Silvio Berlusconi. Perché? Perché se le ricostruzioni sono giuste, e credo che questo processo lo dimostri, c'era in corso un'altra trattativa. La trattativa che era in corso era la trattativa per convincere Berlusconi a scendere in campo e a prendere sostanzialmente il posto, per semplificare, di Andreotti. Così se vogliamo semplificare il posto della politica appunto di riferimento degli interessi di mafia, come era stata l'Università Cristiana nella Prima Repubblica. Su questa cosa si stava adoperando Dell'Utri, che è stato condannato definitivo per rapporti con la mafia. All'inizio anzi si era impegnato all'insaputa di Berlusconi, Maurizio Costanzo era contrario, Maurizio Costanzo era un moderato, poi sostanzialmente era un progressista, quindi era comunque contrario a che Berlusconi da imprenditore facesse politica, come Confalonieri era contrario, come Gianni Letta era contrario. Chi era favorevole? Mentana era, Enrico Mentana era contrario. Chi era favorevole? Era favorevole il giusto, Marcello Dell'Utri. E allora, siccome anche in passato, la mafia, anche negli anni Ottanta, la mafia aveva fatto, prendiamo l'attentato di Via Rovani, cioè dei attentati, magari non così eclatanti, ma c'è stata un'escalation anche di Cosa Nostra nel frattempo, degli attentati per mandare messaggi a Berlusconi per dire vieni a patti con noi, a me l'idea che mi si è formata, consolidata, ce l'avevo già ai tempi del processo dell'Utri, interrogare anche Maurizio Costanzo al processo dell'Utri, ma lui era molto, non dico reticente, ma molto sulle sue, su quella vicenda, non si è mai voluto spingere oltre, neppure nella interpretazione del movente dell'attentato. Io sono convinto che l'attentato del Maurizio Costanzo era soprattutto un messaggio a Siglo Berlusconi. Grazie. Grazie a voi.